Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Nel tempo sono giunte alcune richieste riguardanti la spiegazione o il funzionamento dei compressori. In particolar modo viene spesso posta la domanda quale compressore migliore per la voce, quale setting utilizzare, qual è il miglior compressore per il master, qual è il miglior compressore per la batteria eccetera eccetera. Uno degli strumenti che troveremo più interessanti e utili nel corso della nostra carriera di fonici è sicuramente il compressore. Nel nostro caso di fonici virtuali avremo a disposizione diversi compressori, come vedremo tutti in formato plug-in e che in base alle varie esigenze, sonorità e campo di applicazione sceglieremo ed impareremo a scegliere per migliorare ed alzare l'asticella del livello qualitativo dei brani e tracce a cui lo applicheremo. Il compressore, come dice la parola stessa, comprime. Ma cosa comprime? Se guardiamo ad una forma d'onda o semplicemente ascoltiamo un suono ci accorgiamo immediatamente che vi saranno dei momenti dinamici di piano e forte. Il compressore comprime i momenti forte. Se guardiamo la forma d'onda infatti vediamo che la parte iniziale, in questo caso di una cassa, è molto più forte relativamente alla parte intermedia e soprattutto alla parte finale della forma d'onda. Il compressore comprime quindi i momenti forte, ossia quelli più dinamicamente rilevanti, schiacciandoli, abbassandoli di volume per renderli più controllabili, ad esempio evitando proprio forti escursioni dinamiche e quindi portandoli verso quelli più piano o dinamicamente più bassi. Ovviamente riducendo queste differenze dinamiche sarà poi necessario recuperare il volume generale che ora sarà più basso ed ecco che si verifica un effetto di aumento generale del volume percepito e quindi quello che molti chiamano aumento di presenza del suono. Non sempre il compressore è uno strumento indispensabile. A volte è sufficiente lavorare bene con un controllo del gain manuale durante le fasi di mix ma il compressore può svolgere un ruolo fondamentale proprio nel controllo automatico di alcuni momenti. Ecco che ad esempio nella musica classica dove il controllo dinamico è caratteristica del direttore d'orchestra si cerca di non rovinare o distruggere la reale esecuzione della performance registrata. Il compressore viene quindi spesso usato nei bass o nel master per donare impatto quello che noi chiamiamo spesso punch e rendere tutto più omogeneo e glue prima di procedere alla fase di export ma viene utilizzato anche spesso nelle tracce singole per livellare ad esempio un'esecuzione di batteria o di basso o di voce. È importante fare una distinzione tra compressore e limiter. Il limiter è un sistema di compressione sicura ossia un modo di controllare che l'escursione dinamica non arrivi oltre i limiti della banda audio. Ecco che bisogna innanzitutto fare una distinzione sostanziale tra compressore e limiter. Il limiter è un sistema di compressione sicura diciamo così ossia un modo di controllare che l'escursione dinamica non arrivi oltre i limiti della banda audio entrando in distorsione. È quindi una sorta di safe mode in grado di evitare che il nostro picco più alto entri in distorsione ed ovviamente il limiter agisce. Si comporta come un compressore ma con alcune sostanziali caratteristiche che analizzeremo più avanti. Ci basti sapere che il limiter in genere si trova alla fine della catena del mix o di mastering per evitare che qualche picco di volume improvviso crei una distorsione sul nostro lavoro finale ed in nessun caso deve o dovrebbe danneggiare dinamicamente il lavoro di mix lasciando inalterata la dinamica generale ma soprattutto il colore che il nostro mix possiede. Ripetiamo tutti insieme il compressore non fa suonare più forte le nostre tracce. Il compressore abbassa il volume del forte al livello del piano. È fondamentale capire questo concetto altrimenti non diverrà semplice capire il funzionamento di un compressore. Come dicevamo riducendo la differenza dinamica all'interno del brano ci troveremo ad avere ora più spazio in gergo headroom per poter alzare il volume della traccia risultante dopo la compressione. Ogni plugin o hardware esterno dedicato alla compressione avrà più o meno gli stessi controlli. Impariamo quindi ad utilizzarli insieme. Il primo controllo da analizzare è quello della threshold. Threshold è il controllo di soglia ossia visto che il compressore agisce su suoni forti dinamicamente quanto questi suoni debbano essere forti per poter attivare il compressore. Ecco che dovremmo decidere quale debba essere la soglia di intervento. Mettiamo di avere un suono o un picco che all'improvviso arriva a 0 dB o li supera andando in distorsione. Inserendo una soglia di meno 1 dB il compressore entrerà in azione abbassando appunto di 1 dB. Se le nostre dinamiche forti si trovano a meno 6 dB per farlo intervenire dovremmo inserire una soglia di almeno 7 dB o più in base a quanto vorremmo attenuare questi picchi dinamici. Prendiamo ad esempio il file di una cassa. vediamo che il threshold a 0 non sta facendo entrare in funzione il compressore. Appena qui possiamo analizzare che il picco della cassa si trova verso i meno 7 circa possiamo scendere ed abbassare ad esempio a meno 7 per far entrare in funzione il compressore. Scendendo ancora il nostro compressore aumenta la soglia dinamica. Come ascoltiamo si abbassa anche il volume generale della traccia. Questo perché abbassando i picchi più alti della nostra cassa in questo caso tutto il volume restante quindi quello che noi stiamo ascoltando è relativo al suono che segue il picco. Quindi dovremo ora come spiegato prima rialzare il gain per riguadagnare il volume che abbiamo perso. L'effetto è che ovviamente ora ascoltiamo più suono relativo alla coda della cassa piuttosto che alla punch quindi all'impatto che la cassa ha sul nostro suono. Il secondo controllo da tenere in considerazione è il ratio attacco e release. Collegata alla soglia di intervento esistono dei controlli di intervento proprio sulla soglia quindi sul threshold. Questi controlli fanno riferimento al ratio rapporto di compressione in questo caso 2 a 1 eccetera eccetera e più sale più compressione possiamo avere rispetto al rapporto iniziale. L'attack ossia il momento in cui dovrà attaccare il compressore, il release il momento in cui verrà rilasciato l'effetto del compressore ed entrambi fanno riferimento al tempo in misura di millisecondi come vediamo. Come agiscono questi controlli? Ecco che padroneggiare con questi controlli ci consentirà di utilizzare al meglio il compressore. Alcuni compressori hanno controlli anche più dettagliati e particolari. Li vedremo in seguito. Cercheremo per ora di rimanere nello standard utilizzando un ratio aggressivo distruggeremo anche le piccole differenze tra piano e forte rendendo tutto più schiacciato e poco dinamico. In questo caso diventa una scelta artistica di stile o di gusto in alcuni casi interessante a livello sperimentale in altri assolutamente distruttivo. vediamo l'attacco. Quello che attiva il compressore dopo aver impostato la soglia è il picco più alto che normalmente si trova all'inizio della forma d'onda come abbiamo visto. Pensiamo ad una cassa ad esempio. Il suo momento di maggior impatto è proprio l'inizio, l'attacco qui. Quel momento viene chiamato transiente e viene immediatamente compresso quando l'attacco è selezionato su zero o fast. Viene quindi immediatamente compresso riducendo di molto il suo scopo nel caso della cassa. Infatti è importante percepire il sound della cassa nel mix. Occidendolo quindi immediatamente forse non è il modo migliore di utilizzare il compressore sulla cassa. Potremo però attraverso il controllo di attacco far sì che la soglia di intervento intervenga appunto qualche millisecondo dopo l'arrivo del transiente preservando l'impatto immediato del colpo. Ovviamente se il colpo della cassa è già a 0 dB dovremo necessariamente abbassare a priori tutta la traccia di cassa. In questo torna utile il controllo di input gain che alcuni compressori possiedono come il nostro di studio one. Possiamo vedere come abbassare fino a meno 12 dB il gain in ingresso nel compressore. Oppure applicare un gain reduction alla traccia direttamente attraverso in questo caso studio one la tendina che ci permette di alzare o abbassare il volume della traccia. Ricordiamoci che il fader fa riferimento al suono che esce dal canale quindi non quello che entra nel compressore. Una volta preservato il transiente entra in funzione il compressore che schiaccia il resto del segnale. Ma quanto deve durare questo schiacciamento? Ecco che arriviamo al controllo di release. Il rilascio ci permette di decidere quando farà smettere di far funzionare il compressore. Anche perché proprio nel caso di una cassa è necessario che il compressore smetta di funzionare prima del prossimo colpo di cassa in arrivo. Quindi dovremo accuratamente regolare il rilascio facendo attenzione a preservare il prossimo colpo di cassa che sarà quindi in grado di riattivare il processo di compressione. Cosa accade se il prossimo colpo di cassa arriva mentre il compressore è in funzione? Viene immediatamente schiacciato facendolo percepire più basso rispetto al primo e così via. Ecco che concentrandoci sull'attacco e rilascio ci permette di controllare al meglio i picchi dinamici ammorbidendoli solo quando e quanto è necessario. A volte si tratterà di sottili differenze a volte di differenze più evidenti. Questo rapporto va ovviamente sistemato ad orecchio mentre ascoltiamo l'esecuzione della traccia o del basso perché questi valori cambieranno radicalmente in base alla velocità del metronomo della song ed è uno dei motivi per cui io cerco di non utilizzare i presets. Un discorso sui preset va fatto proprio ora. Consideriamo che utilizzare il preset già impostato molte delle volte non è funzionale proprio perché non sappiamo su quale song traccia o file sia stato creato e soprattutto a che velocità andava la sorgente a cui fa riferimento il preset falsando molto il risultato sulla nostra traccia. Pensiamo infatti ad attacco e rilascio che potrebbero non coincidere con la velocità delle nostre song. I preset sono un ottimo punto di partenza ma non sono quasi mai adatti al lavoro. Diventa quindi fondamentale capire i concetti e i controlli del compressore per imparare ad applicarli. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto i miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifiche dei nuovi video caricati. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di questi video gratuiti. Trovate il link nella descrizione sotto. Per ora è tutto, ciao a presto! Ciao!